Nel giorno dell'inizio del nuovo anno scolastico, il 13 settembre, riaprirà l'Istituto Cuoco di Sernia in corso di svolgimento gli ultimi interventi, ma ormai la notizia è ufficiale. No, più che interventi abbiamo predisposto il trasloco dei banchi, delle suppellettili, delle scrivanie, che erano rimaste solo queste, perché una grossa porzione erano già stati fatti a fine luglio. Riapriamo perché la scuola è stata consegnata, ci sono state tutte le verifiche anche da parte di Vigilio del Fuoco, i collaudi, per cui è in condizione di poter riaprire. Abbiamo avuto anche un ulteriore finanziamento, circa 85 mila euro dal MIUR, per fare le verifiche sismiche, che non sono poi così a buon mercato, perché 4 istituti e 85 mila euro significa che in base anche alle dimensioni degli istituti i costi sono anche rilevanti. Dopo le verifiche sismiche, se il grado di vulnerabilità è inferiore alle soglie previste dalla legge, si potrà fare la progettazione per la riattazione. Però già sappiamo che almeno per quanto riguarda il ferme abbiamo avuto il finanziamento di 2 milioni e mezzo, 500 mila euro li abbiamo già avuti perché abbiamo una tranche di anticipazione del 20%, dovremo fare le gare d'appalto, dovremo poi fare tutta la procedura per procedere alla consegna dei lavori, ma penso che tutta questa fase durerà almeno tutto il primo semestre del 2019, quindi probabilmente col nuovo anno accademico riusciremo anche a mettere in mano al ferme. Altre verifiche le stiamo facendo sul Manuppella, altre ancora sull'istituto alberghiero di Agnone e sul classico di Venafro, ma penso che le due più grosse criticità sono quelle del Fermi e del Manuppella, che però contiamo di sanare subito dopo aver fatto le verifiche sismiche.